Dai precari del sistema giudiziario abruzzese ai lavoratori del call center Globe Network fino ai dipendenti delle aziende Hitech, Intex e Tecnolabs, un tempo fiore all'occhiello dell'ormai ex polo elettronico dell'Aquila. Un mix variegato di storie di donne e uomini diverse tra loro che si sono dati appuntamento all'Aquila per protestare e chiedere certezze sul loro futuro al capo del governo Matteo Renzi. I manifestanti sono stati tenuti a distanza dalle forze dell'ordine. Gli scontri e disordini nello scorso mese di agosto quando Renzi si seregò all'Aquila per la prima volta non si sono verificati. Solo fischi e slogan che seguono quelli dell'altra protesta eglatante andate in scena solo qualche giorno fa in occasione del passaggio del Giro d'Italia. Andremo da Matteo Renzi per chiedere che sostenga la nostra causa di continuità del lavoro all'Aquila. Quindi chiediamo a Renzi che dia, ancora una volta lo ribadisco, con la possibilità ai 234 lavoratori di Club Network di continuare a lavorare per H3G. Di cercare di mantenere soprattutto l'economia italiana perché con la nostra azione stiamo fermando tutte le accierie. Quindi automaticamente l'economia si ferma e non sono solo 80 persone che rischiano di perdere il posto ma saranno più di 100.000 perché fermandosi stiamo collassando il mercato dell'acciaio italiano. Ha dichiarato la cassa integrazione e quindi un percorso verso la chiusura dello stabilimento aquilano. Stiamo facendo un percorso con la regione nel tentativo di riattivare e ricollocare i lavoratori in quelle che saranno le aziende che dovrebbero arrivare col 4%. Oggi siamo qui perché questo governo non può ignorare queste realtà, non può ignorare una generazione di quarantenni e cinquantenni con figli che hanno una professionalità, una storia e che una competenza nel momento in cui si dice che le nuove tecnologie, la ricerca dovrebbero essere le linee portanti che ci tireranno fuori da questa crisi.